Numero 5. Questo coprimotore fuori bordo è l'accessorio indispensabile per chi ha una barca e vuole mantenere il proprio motore al sicuro dalle intemperie. Realizzato con materiale di alta qualità, come il tessuto Oxford 600D, garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo. La fodera è 100% impermeabile e traspirante, proteggendo il motore dalla pioggia, dal sole e dal vento. Con cerniere laterali e elastici regolabili, è facile da fissare e impedisce alla fodera di volare via durante le giornate ventose. Le cuciture doppie ne aumentano la robustezza, garantendo una protezione efficace per il tuo motore fuori bordo. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 4. Con il coprimotore fuori bordo di Como, è possibile proteggere il vostro prezioso motore da tutti gli elementi che potrebbero danneggiarlo. Dotato di un laccio per una perfetta aderenza e cuciture doppie per una maggiore tenuta, questo coperchio si adatta facilmente al vostro motore, offrendo una protezione completa. Non dovrete più preoccuparvi di polvere, raggi ultravioletti, escrementi di uccelli e altri fattori, perché sarà la vostra sicurezza. Inoltre, la cover è facilmente lavabile e si adatta facilmente al motore, garantendo una protezione completa. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. L'esperienza di navigazione in barca è molto più piacevole con un motore fuori bordo affidabile, ma anche questo prezioso componente ha bisogno di cure e protezione. Fortunatamente, la custodia protettiva per fuori bordo di Ocean South è qui per aiutare. Realizzata in tessuto poliestere di qualità a contrattamento Cyclone Protect, questa custodia è progettata per offrire la massima protezione al tuo motore da polvere, salsedine e raggi UV dannosi. Grazie all'orlo elasticizzato e alla chiusura con fibbia, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di motore fuori bordo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 2. Questo coprimotore fuori bordo in poliestere 600D è l'accessorio perfetto per proteggere il tuo motore marino da graffi, polvere e salsedine, offrendo una vestibilità aderente grazie all'orlo elastico e all'allacciatura con fibbia. La fodera in feltro morbido garantisce una maggiore protezione contro eventuali danni. Ogni modello è progettato specificatamente per adattarsi ai diversi tipi di motori fuori bordo, garantendo una vestibilità perfetta e una protezione ottimale dai raggi UV. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. Questa copertura per motore fuori bordo è un accessorio essenziale per tutti i possessori di un motore esterno. Realizzata in tessuto Oxford 600D con rivestimento in PVC extra è completamente impermeabile e resistente ai raggi UV. Le cuciture doppie assicurano una maggiore durata nel tempo e la facilità di calzata e rimozione la rende pratica e comoda da utilizzare. Questo coprimotore è la scelta perfetta per proteggere il tuo motore in tutte le condizioni atmosferiche, garantendo una lunga durata e una perfetta funzionalità. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto.